Il tour dei quattro laghi In Val Gerola, un tour secondo me molto bello perché i laghi sono abbastanza carini Come potete vedere ho sulla nuova maglia del Teamfish E guardate qua è già tutto pronto Ora vedete qua ci sono gli zaini Poi qua l'altro zaino di mio padre Tutta l'attrezzatura che andremo a utilizzare in queste giornate Adesso carichiamo la macchina e poi si parte Quattro ragazzi eccoci qua siamo in viaggio stiamo andando verso Somaggia dove dormiremo questa notte e domani mattina prestissimo verso le 5 partiremo e andremo verso Pescegallo giusto qua? Valgerola Valgerola comunque Pescegallo più precisamente e niente adesso arriviamo ci sistemiamo un attimo ci vediamo ci vediamo dopo ciao ragazzi ragazzi mi sto facendo l'annuncio col telefono per fare il video perché è buio pesto comunque ci siamo appena svegliati e adesso stiamo partendo per la Valgerola sono tipo le 4.45 5.45 comunque circa le 5 di mattino e a breve partiremo e ci vediamo quando ci avviciniamo un po' alla zona perché ora è troppo buio anche per un video normale vedete sto facendo luce col telefono e niente ci vediamo dopo ragazzi siamo partiti sto iniziando a camminare e vedete qua c'è tutta la ferrovana sono l'ultimo quindi devo stare dietro ci vediamo quando arriviamo i laghi ragazzi eccoci qua il lago ci stiamo preparando come potete vedere adesso iniziamo a pescare stiamo iniziando a pescare con un rapola vediamo se riesco a prendere qualcosa sennò cambierò no Mario proverò un po' tutto Mario ti saluta mio zio peccato che non sia potuto venire non sai che la ti stai perdendo però vabbè ci sarà una prossima volta iniziamo a pescare e poi vediamo se si prende qualcosa iniziamo a pescare e poi vediamo se 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 è troppo piccola però va bene devi iniziare per forza per piccolo salmerino salmerino Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, è pario. Piccolo a sottomisura tutto. Poi non è padello. Piccolo a sottomisura tutto. Piccolo a sottomisura tutto.